ciao a tutti oggi prepareremo la pasta con crema di spinaci il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa gli ingredienti sono cipolla spinaci olio evo mascarpone sale pepe noce moscata pasta tipo farfalle e parmigiano grattugiato diamo il via alla ricetta abbiamo scongelato gli spinaci e li abbiamo strizzati mettere nel boccale la cipolla e la facciamo tritare per tre secondi a velocità 7 riunire sul fondo del boccale con la spadola aggiungere l'olio ed insaporire per quattro minuti 120 gradi velocità 3 riunire sul fondo del boccale con la spadola aggiungere gli spinaci e cuocere per 10 minuti 100 gradi velocità 1 riunire sul fondo del boccale con la spadola aggiungere il mascarpone il pepe il sale la noce moscata ed azionare il bimbi per otto minuti 100 gradi velocità 1 nel frattempo cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente aggiungere il parmigiano e frullare per 40 secondi a velocità 9 condire la pasta pasta con crema di spinaci grazie e alla prossima ricetta aggiungere il bimbi per otto minuti velocità